Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così fra sé. «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri». Ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. «Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva al petto dicendo «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». «Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». Parola del Signore Gesù racconta ancora una parabola, anche questa è solo di San Luca. Per alcuni è una parabola indirizzata proprio a una categoria specifica che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ecco, come dire, qual è l'atteggiamento più pericoloso, quello che ci allontana di più da Dio? «La presunzione di essere giusti, di essere a posto, di essere bravi, perché chi pensa di essere giusto, a posto e bravo non ha bisogno del Salvatore, non ha bisogno di Gesù». E allora ecco le due figure che si stagliano, il fariseo e il pubblicano, che, pubblicano sapete, era questa categoria di esattori delle tasse venduti agli occupanti romani, quindi traditori del popolo e anche ladri, perché richiedevano più di quello che dovevano, naturalmente odiatissimi e anche timbrati, diciamo così, come pubblici peccatori. E Gesù prende come esempio proprio un pubblicano. Gesù è un vero provocatore nelle sue parabole. Infatti il fariseo come prega «O Dio ti ringrazio» e fin qui va tutto bene «Perché non sono come gli altri uomini» E' già qui, incominciamo a prendere la tangente «Ti ringrazio perché non sono come gli altri, io sono bravo, gli altri sono ladri, ingiusti e adulteri, oppure sono come questo pubblicano che era lì di fianco a lui Io digiuno, io pago le decime, io prego, io sono bravo. Cosa c'è al centro di questa preghiera? Io, io che sono una brava persona, una persona religiosa che fa tutto il suo dovere. Com'è la preghiera del pubblicano? «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Non solo è più breve, ma che cosa c'è al centro di questa preghiera? C'è Dio. «O Dio, abbi pietà di me e riconosco che sono un peccatore». Commento di Gesù, questo tornò a casa sua giustificato, reso giusto da Dio, a differenza dell'altro. Ecco, c'è un atteggiamento di fondo che il Signore ci insegna in tante pagine, anche in questa splendida del Vangelo. L'atteggiamento dell'umiltà, che è la verità, che è riconoscere, ed è, la propria incapacità di salvarci da soli con le nostre opere, con i nostri meriti, con le nostre capacità. La vera giustizia ci viene solo da Dio. È Lui che rende belle le nostre opere. È Lui che cambia il cuore. È Lui che ci ispira a parole buone. La bontà viene da Lui ed è merito suo. Ecco, come dice la liturgia, parlando dei santi, premiando i loro meriti, i meriti dei santi, Tu, Signore, incoroni i Tuoi doni. Sono doni di Dio. Poter amare, poter servire, poter fare qualcosa di buono, è un dono di Dio. Lo riconosciamo. I nostri peccati, invece, sono proprio nostri. E possiamo affidarli, però, a quella misericordia che rende giusto anche il peccatore. Basta riconoscerlo.